Qual è la differenza tra un uomo di successo e un uomo di insuccesso? Ci siamo mai chiesti perché ci sono persone che ottengono risultati e persone che invece fanno fatica ad ottenere risultati. Tutto dipende da una sola cosa, dalla mente. Noi gestiamo e guidiamo la nostra vita in base a delle scelte che prendiamo. Quindi le conseguenze di queste scelte diventano poi il nostro futuro. Ma se alla base non ci sono scelte consapevoli, non ci sono scelte corrette da prendere, è normale che poi la nostra vita sarà un insuccesso. È normale che poi non riusciremo a raggiungere i nostri traguardi, i nostri obiettivi. Prendersela con il mondo, con la vita che è ingiusta con te, non mi sembra il caso. Perché una sola cosa fa la differenza nella tua vita ed è proprio la tua mente. Cosa hai nella tua mente? E la tua mente dove ti spinge ad andare? Quindi se vediamo una persona di successo, se vediamo una persona che riesce a raggiungere i suoi obiettivi è perché nella sua mente c'è il successo. Perché la verità è questa. Puoi vedere se una persona è ricca o povera in base alla sua mente, in base a quello che ha nella sua mente, in base a come pensa, in base a come agisce. Non sono i soldi a rendere ricca una persona, ma è la sua mente, è quello che ha nella sua mente, che lo spinge poi a fare soldi, che lo spinge poi ad avere una vita più agiata, una vita più serena, senza problemi economici. E non bisogna nasconderlo, perché tutti quanti noi vogliamo arrivare ad un punto della nostra vita dove ci svegliamo la mattina e siamo felici di fare quello che facciamo. Abbiamo il lavoro dei nostri sogni, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo guadagnare facendo quello che amiamo. E oggigiorno sembra veramente fantasia, ma non lo è. Io sono partito da zero e ho rivoluzionato la mia vita. Per chi ha visto i miei video precedenti, ho raccontato un po' della mia storia, un po' del mio passato e del mio trascorso. Il padrone di casa ci diede una data, un termine. Entro quella data ce ne dovevamo andare. Non avevamo soldi, eravamo completamente disperati. Allora decidiamo di chiamare i giornalisti, in modo tale da trovare qualche persona disposta ad aiutarci, a darci comunque quella spinta che ci serviva per ripartire. E in quel momento io ero popolare. A me mi conosceva tutta Napoli in quel momento. Perché erano già due anni che io facevo video e nessuno sapeva la situazione che vivevo. Semplicemente perché avevo vergogna. Penso sia normale, no? Magari tu cominci a fare video, la gente ti conosce, ti vede come una cosa grande, ti vede come la persona che non sei fondamentalmente. Perché non sapevano quello che stava passando in quel momento. E allora io mi vergognavo a scrivere uno stato, a pubblicare un video dove chiedevo aiuto agli altri. Infatti quando vennero i giornalisti a casa, chiesi una sola cortesia a loro, di non riprendere del tutto la cucina oppure la casa. Perché le persone che seguivano i miei video avrebbero poi riconosciuto la casa. E infatti così poi è successo. Diciamo che qualcuno mi contattava e mi diceva Carmela, ma questa è casa tua, Carmela, ma questo è tuo padre. L'articolo è questo qua. E c'è un video in cui mio padre chiede semplicemente aiuto. Il signor Raffaele vive con la sua famiglia nel centro storico di Giuliano. Da tempo le difficoltà economiche e la mancanza di lavoro hanno costretto l'uomo a chiedere aiuto. Mi hanno aiutato con gli alimenti, con i pigioni, anche col proprietario della casa, è stato magnanimo con me. anche due anni fa dieci mensili arretrati. E lui mi ha tenuto, diciamo, per carità. Vi ho mostrato questo per il semplice fatto di concretizzare poi quello che dico. Ma solo per farvi vedere che chi vuole, i risultati li ottiene. Ma i risultati li ottiene chi sceglie di imparare, i risultati li ottiene chi sceglie di aumentare la sua conoscenza, aumentare le sue abilità. Perché se io e te abbiamo lo stesso problema, io lo risolvo in un modo e tu in un altro? Perché noi affrontiamo i problemi, affrontiamo la vita e seguiamo il percorso di questa vita in base alle conoscenze che abbiamo. E se queste conoscenze alla base non sono sufficienti per fare in modo da farci vivere una vita serena, cosa succede? Succede che oltre ai problemi che noi abbiamo, risolvendoli in un modo errato, ce ne creiamo altri. Quindi qual è la cosa che può realmente cambiarti la vita? Il fatto di sapere, di conoscere più strade, avere più abilità, avere sete di informazioni, mettersi in testa che anche se è difficile, che anche se vediamo l'inferno nella nostra vita, c'è sempre un modo, c'è sempre una soluzione per uscirne. Ma tutto dipende da te. Puoi fare quello che vuoi, puoi farti prestare 1000, 2000, 5000 euro, puoi fare un prestito, puoi vincere una schedina, ma devi essere tu a gestire i tuoi soldi, non devono essere i soldi a gestire te. È come se facessimo crescere la nostra pianta in un terreno contaminato, in un terreno dove tutto quello che cresce finisce per poi marcire. In questo caso il terreno è la nostra mente. Se nella nostra mente non abbiamo un'educazione, se non conosciamo le strade giuste da percorrere per far crescere la nostra pianta, tutto quello che faremo andrà perso. Tutto quello che faremo sarà un fallimento. E va bene la motivazione, va bene dire io ce la faccio, ce la posso fare, ma in che modo? Ti sei mai chiesto in che modo ce la puoi fare? Ti sei mai chiesto come puoi realmente cambiare la tua vita? Come puoi partire da zero e arrivare a 1000? Un metodo, una soluzione, sicuramente esiste, ma io non ce l'ho per te. L'ho trovato per me il mio metodo, l'ho trovata per me la mia soluzione, per la mia vita e quello che posso fare è condividere con te quello che a me mi ha portato a fare dei grandi passi nella mia vita e posso condividere con te quelli che sono i miei risultati e posso spiegarti come li ho ottenuti, posso spiegarti come ho riprogrammato la mia mente, come ho fatto per riuscire a gestire i miei soldi, posso spiegarti come ho fatto a far lavorare i miei soldi per me, posso spiegarti come ho imparato ad investire, posso spiegarti come ho imparato a fare trading, posso spiegarti e illustrarti come è possibile fare soldi senza avere soldi, posso farti vedere che le soluzioni esistono ma siamo noi che non le vediamo, siamo noi che invece di andare nella direzione giusta percorriamo quella sbagliata. Allora quello che bisogna fare è andare alla ricerca di questa soluzione, andare alla ricerca della tua strada, quella che ti porta al successo. E quando parlo di successo non immaginare la ricchezza in termini di soldi, la ricchezza in termini di auto o di lusso, quella è un qualcosa che non rende ricchi. La ricchezza è nella tua mente, puoi coltivare questa tua ricchezza, puoi fare in modo che tu la mattina ti svegli e sii felice della vita che vivi, quella è la ricchezza. È la ricchezza quando tu hai tempo da dedicare a fare quello che ti piace, hai tempo da dedicare alle persone che ti sono intorno, alle persone che vuoi bene, quella è la ricchezza. La ricchezza non è possedere soldi, la ricchezza è far lavorare i soldi per te e tu devi avere il tempo di goderti la vita perché non bisogna vivere per fare soldi, bisogna trovare un modo per fare soldi per poi godersi la vita. Per alcuni può essere fantascienza quello che sto dicendo, per alcuni può essere stupido, ma vi posso assicurare che nella mia vita ho avuto tanti risultati e ne sto finalizzando uno proprio in questo momento perché ho creato un videocorso e può essere l'ennesima volta che vedete una persona parlare di un videocorso, di vendere un videocorso perché oggi si portano quindi creare dei videocorsi e venderli. Ma cosa c'è all'interno di questi videocorsi? Cosa si vende fondamentalmente? Veramente si possono ottenere risultati comprando un videocorso? Com'è possibile che se una persona sa come fare soldi lo dice ad un'altra? Queste sono le frasi che sento molto spesso e sono tante le cose che si possono dire e si possono pensare ma una cosa è sicura, puoi ottenere risultati solo seguendo le orme di chi già le ha ottenute. Parlo della mente, come riprogrammare la nostra mente il nostro inconscio la cosa più sottovalutata la nostra mente quella che poi ci guida quella che poi ci fa fare azioni e ci fa ottenere risultati. Non possiamo ottenere risultati diversi avendo sempre la stessa mentalità e in questo videocorso parlo della mente parlo della gestione dei soldi di come mi ha cambiato la vita guadagnando sempre la stessa cifra gestendo in modo diverso i miei soldi sono riuscito a guadagnare di più sono riuscito a gestire al meglio la mia vita parlo degli investimenti dei miei investimenti di come li faccio degli investimenti a lungo termine a breve termine degli investimenti in cripto dove prendere informazioni su una cripto dove trovarle all'interno troverete un videocorso di trading in cripto ci sarà una sezione dedicata ai guadagni online guadagnare creando giochi e app senza saper programmare guadagnare con youtube con instagram guadagnare con le tue conoscenze e infine nel videocorso troverete un metodo una strategia sicura legale e con zero rischio per recuperare i soldi spesi per il corso e guadagnarci ancora di più mi ritengo una persona sincera e leale la mia intenzione è quella di ampliare quello che è il mio lavoro e quelle che sono le mie entrate e con questo videocorso lo sto facendo ma nello stesso tempo lo sto insegnando agli altri sto facendo vedere agli altri quello che io faccio e prima di fare questo videocorso ne ho acquistati io tanti di videocorsi e ho speso migliaia e migliaia di euro ma con estrema sincerità un'unica cosa la posso dire non ho mai trovato un corso che costa meno di 100 euro con all'interno tutte le informazioni che ho messo io in questo videocorso questo perché oltre alla soddisfazione di poter guadagnare altri soldi e quindi crearmi una nuova entrata tramite dei videocorsi la mia soddisfazione più grande è sapere che ci sono persone che possono riuscire a fare un qualcosa di buono nella loro vita seguendo quello che ho fatto io e per me non c'è cosa più bella all'interno del videocorso troverai anche un link di un gruppo telegram perché tutte le persone che acquisteranno il videocorso resteranno in contatto con me e potranno confrontarsi con tutte le altre persone quindi per qualsiasi dubbio domanda ne possiamo parlare attualmente il prezzo del videocorso è veramente veramente il più basso in circolazione non ne trovate un altro con le informazioni che do io in questo videocorso ma solo per 10 giorni dopo 10 giorni il prezzo aumenterà trovate il link del videocorso qui sotto in descrizione per vivere bisogna vivere non sopravvivere e per anni per anni interi non ho fatto altro che studiare 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 cercare conoscere informarmi senza mai fermarmi perché se capisci che la conoscenza è l'unica cosa che può cambiarti realmente la vita non ti fermi non vai a cercare la tua soluzione negli altri non preghi il tuo datore di lavoro che ti deve dare l'aumento non preghi che il governo faccia un qualcosa per trovarti lavoro perché se hai la conoscenza conosci nuove strade puoi decidere tu per la tua vita in descrizione trovi un link dove elenco tutti gli argomenti che trattano il corso così puoi capire se questo videocorso fa per te o no voglio concludere questo video con la frase che già ho ripetuto in qualche mio video e che mi ha cambiato totalmente la vita perché tutto è partito da questa frase che mi ha fatto capire tanto ed è questa costruisci i tuoi sogni o qualcun altro ti assumerà per costruire i suoi sei tu il padrone della tua vita datti la possibilità di poter fare di più